E' durato due ore il confronto tra il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e il movimento Avanti Tutta costituito a difesa del presidio ospedaliero di Popoli. All'incontro che si è svolto nella sede di Pescara della regione Abruzzo hanno partecipato anche il direttore generale della ASL Armando Mancini, il direttore sanitario Valterio Fortunato, il direttore del dipartimento regionale della sanità Angelo Muraglia e Alfonso Mascitelli, direttore dell'agenzia sanitaria regionale, nonché il sindaco di Popoli Concezio Galli. Il presidente D'Alfonso ha analizzato con attenzione la proposta illustrata dal movimento e stimolato il confronto con il direttore generale della ASL Armando Mancini, il quale nei prossimi giorni presenterà l'atto aziendale al fine di individuare un percorso condiviso per mantenere funzionale il presidio ospedaliero di Popoli.